Il dialogo con il contesto esistente, quindi il paesaggio circostante, l'edificio storico a cui si affianca, il bene archeologico a cui dà accesso, creando delle strategie specifiche per quel sito che in qualche modo fanno interagire il nuovo intervento con quello esistente. Questo può venire a più livelli, vi farò vedere alcuni esempi di parchi archeologici recenti in Europa, in cui l'idea fondante è che non è un'architettura completa, è un'architettura incompleta se vuoi in sé, ma specificatamente creata per quella specifica occasione, il contesto, è fatto in modo che diventi un elemento relazionale che dà accesso al bene storico. E questo in qualche modo cercando di rimanere assolutamente contemporanea, non cercando di imitare il bene storico, di creare un finto antico per legarsi ad esso, dove c'è una relazione superficiale d'immagine che pretenderebbe di sapere cos'è una volta per tutto il bene storico e di come ricostruirlo. Siccome la percezione della storia è relativa al periodo in cui viviamo, la lettura della storia è qualcosa che parla di noi, non solo del momento storico che cerchiamo di analizzare. E quindi l'architettura contemporanea, invece di essere in qualche modo, di cercare di imitare o di scimmiottare il contesto a cui si aziona, cerca di essere se stessa e anzi usa quei suoi elementi di leggerezza, tecnologie, trasparenza spaziale e informatizzazione, per in qualche modo legarsi in maniera più sensibile, leggera possibile ad bene archeologico. Grazie a tutti!